altri che ad oggetto stato d'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza iniziative volte ad assicurare il conseguimento dei relativi obiettivi. Il deputato Coppo ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario per un minuto. Prego Onorevole. Grazie Presidente. Onorevole Ministro, il 13 luglio 2021 veniva approvato il PNRR. 132 gli investimenti, 63 le riforme previste, 68,9 miliardi a fondo perduto, 122,6 a prestito. Già si capiva che qualcosa bisognava cambiare, poi ovviamente gli eventi internazionali hanno molto influito. Il 27 febbraio 2023, con regolamento 2023 435, viene inserito il Repower EU nel PNRR. Il 7 agosto 2023 viene fatta la proposta di revisione del PNRR da parte del Governo. L'8 dicembre 2023 l'Ecofina approva la revisione proposta dal Governo dove sono previsti 150 obiettivi, 62 riforme e 71,8 miliardi a fondo perduto, 3 miliardi in più a fondo perduto rispetto a prima e 122,6 prestiti e quindi invariata la quota dei prestiti. Con il decreto legge 19-2024 convertito dalla legge 56-2024 sono state appunto approvate misure urgenti dirette alla realizzazione del piano. Si chiede con l'interrogazione qual è lo stato di attuazione del PNRR italiano e quali iniziative si intende assumere al fine di assicurare il conseguimento di tutti i suoi obiettivi. Grazie. Grazie Onorevole. Il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione, il PNRR Raffaele Fitto ha facoltà di rispondere per tre minuti. Prego Ministro. Sì, grazie Presidente. La revisione del PNRR ha rappresentato un primo passo fondamentale per definire gli ambiti di azione del Governo rispetto a questo importante piano. La sua approvazione ha definito e ha consentito non solamente l'aggiunta del capitolo Repower EU che ha rappresentato uno degli elementi più innovativi e soprattutto anche di poter consentire lo spostamento fuori dal piano di una serie di progetti che non avevano le caratteristiche e la tempistica per poter essere mantenuti all'interno del piano. Successivamente a questo il Governo ha, come è noto definito, il rapporto degli obiettivi e i pagamenti della terza e della quarta rata, ha presentato gli obiettivi della quinta rata ed è in corso di verifica in questi giorni il raggiungimento degli stessi in profigua collaborazione con la Commissione europea. Al tempo stesso mi piace sottolineare come siamo al lavoro contemporaneamente su altri due fronti che sono quello relativo alla sesta rata i cui obiettivi scadono il 30 giugno di quest'anno e ritengo di poter esprimere assolutamente valutazioni positive e ottimistiche rispetto al raggiungimento degli stessi così come anche relativamente al percorso della settima rata al 31 dicembre di quest'anno. I due decreti citati, il decreto legge relativo alla governance del PNRR insieme al decreto legge convertito in legge nei giorni scorsi, nelle settimane scorse collegate alla fase di attuazione ha consentito e consentirà non solamente una semplificazione ed accelerazione della spesa ma ci consentirà anche di poter utilizzare bene al meglio le misure innovative inserite all'interno della revisione. Mi riferisco in modo particolare alle risorse assegnate soprattutto al mondo delle imprese e in modo particolare alle risorse assegnate alle imprese per la transizione 5.0 che avevano bisogno e necessità di essere attuate all'interno di un provvedimento di legge e appunto questo decreto lo ha completato. Siamo al lavoro in questi giorni per definire la quinta relazione che sarà presentata in Parlamento prima della pausa estiva. All'interno di quella ci sarà l'occasione per fare ancora di più il punto della situazione e dare i dettagli rispetto a tutte le questioni che sono oggetto di questa attuazione. Chiudo richiamando un dato oggettivo che è la relazione intermedia che la Commissione europea ha presentato nel mese di febbraio dalla quale si evince che il nostro Paese con una valutazione assegnata a valutatori esterni rappresenta il Paese che ha raggiunto il maggior numero di obiettivi all'interno del confronto della comparazione con gli altri Stati membri. Grazie. Grazie Ministro. A facoltà di replicare il deputato Osnato per due minuti. Prego. Grazie Presidente e grazie anche al Ministro Fitto per la relazione di cui ci dichiariamo sicuramente soddisfatti. Lo ringraziamo anche per la puntualità e la precisione che le sono consueti. Però voglio ringraziarla soprattutto per il lavoro che lei ha svolto in questi anni nei rapporti con la Commissione europea sul PNRR perché vede se lei come ha fatto puntualmente ripeto ci ha definito ci ha definito esattamente qual è il perimetro del lavoro che è stato fatto sul PNRR e quali sono i risultati che oggi stiamo raggiungendo evidentemente significa che alcune diciamo leggende che erano circolate precedentemente sulla ineluttabilità del PNRR precedente. Un PNRR che sembrava scritto in un libro dei sogni e rischiava di trasformarsi invece in un libro degli incubi perché come lei ha giustamente ricordato alcuni progetti che precedemente erano contenuti sul quale io non dico non avessero una magari positiva ricaduta sul territorio ma non riguardavano la misura che era nel PNRR. Lei è stato capace di appunto proporre una revisione, di ottenerla, di ottenere tutte le rate che lei ha citato, di avere già la possibilità di chiedere la quinta e valutare gli obiettivi della sesta evidentemente senza rinunciare a quegli stessi progetti che con altre misure sono presenti nelle amministrazioni comunali del nostro territorio nazionale. Quindi facendo cadere anche una leggenda del ce lo chiede l'Europa quindi è ineluttabile. No, noi abbiamo preferito credere all'Italia cambia l'Europa con la serietà e la credibilità che questo governo ha dimostrato. Oggi noi abbiamo potuto ottenere come giustamente diceva il collega Coppo più risorse meglio distribuite, più puntuali, più vicine a quelle che sono le esigenze dei territori. Allora è anche un modo questo e ringrazio ulteriormente il Ministro per questo di insegnare agli italiani e alle amministrazioni pubbliche che certe volte si possono usare i contributi europei, si possono usare nel modo positivo e concludo si possono usare anche facendo delle rendicontazioni puntuali e appropriate come quelle che stiamo facendo. Grazie mille.